Il futuro delle nostre radici, questo l'hashtag e il contest che abbiamo lanciato che oggi ci riportano in Abruzzo in una storia che nasce da un'altra storia, che nasce da cugini, che nasce da amici tutto parte dalle virtù teramane di Marzia, lette da un cugino di Castelli ieri che vuole partecipare con il suo paese ma non si sente di scrivere da solo una storia e allora chiama Valentina. Valentina è una scrittrice, vive a Milano, originaria di Castellieri e ha mantenuto con il suo paese d'origine un rapporto di profondo amore come potete vedere leggendo la sua storia un legame viscerale che credo un po' tutti gli abruzzesi abbiano perché ogni volta che ci siamo trovati con una storia scritta da un abruzzese c'era sempre un legame di una forte passione di un forte coinvolgimento emotivo e anche questa è una storia molto bella Castelli ieri è un paese che vorremmo andare a visitare e troveremo un congiunto per andarlo a visitare a breve e leggetela e vediamo se quanti lettori riuscirà a avere, quanto sarà l'interesse per poi arrivare al contest finale in autunno. Allora ricordatevi noi siamo qui per raccogliere le vostre storie le editiamo, vi editiamo ad editarle, nel caso ne avete bisogno ve le traduciamo in inglese e poi tutti insieme condividiamole. Fra l'altro molto interessante perché a Castelli ieri proprio c'è una fortissima comunità di abruzzesi all'estero che non vede l'ora di leggere anche questa storia quindi auguri Valentina, grazie di aver partecipato e diffondiamola insieme. Alla prossima!